Si è svolto questa mattina in consiglio regionale il question time del consigliere del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano. In aula la Giunta ci ha dato rassicurazioni sui tempi della riorganizzazione del presidio, spiega Michele Cammarano in una nota stampa. Oggi siamo rimasti soddisfatti della risposta che l'ASL Salerno 1 tramite l'assessore ci ha inviato qui al question time. Mi ricordo che era stato già rinviato il question time per permettere ulteriori approfondimenti da parte dell'ASL. L'ASL risponde praticamente ufficialmente che si faranno carico e rispetteranno il DCA 103 del 2018 per migliorare i servizi sanitari lì nell'ospedale di Agropoli. Io ho mostrato all'assessore oggi anche le 42.000 firme che i cittadini hanno raccolto su change.org e li inoltreremo all'assessorato come ci è stato richiesto. Come vedete a volte anche fare delle azioni dal basso, quindi in qualche modo spingere su alcuni temi è importante anche nelle istituzioni e questa sarà un'ulteriore spinta per permetterci di sorvegliare l'ASL, di controllare che quanto detto nell'interrogazione sia rispettato nel prossimo futuro.